La nostra regione è interessata da un robusto campo di alta pressione di matrice subtropicale che determina condizioni di assoluta stabilità, una configurazione barica anomala per questo periodo in virtù della sua forte espansione in senso verticale per rendere l'idea i valori di altezza di geopotenziale della superficie sobarica di 500 etto pascal sono simili a quelli che generalmente si verificano nel mese di luglio. Nonostante la sua roccaforte sia posizionata tra la Sardegna e le Baleari, gli effetti saranno vistosi anche sulla nostra regione e addirittura fin sull'Europa centrale. Chiaramente non determinerà scenari simili alla stagione estiva, ci mancherebbero pure i 40 gradi centigradi, ma poiché siamo in inverno e la radiazione solare è minima, il suolo quindi tende a raffreddarsi molto più velocemente rispetto a quanto accade in estate. Questo comporterà la formazione di dense foschie ed estesi banchi di nebbia durante le ore notturne e al primo mattino sulle pianure e vallate interne, sulle alte colline invece e in montagna il cielo si presenterà in prevalenza sereno e durante le ore diurne si supereranno i 15 gradi centigradi anche al di sopra dei mille metri di altitudine. Dunque possiamo affermare che in montagna si assaporerà un clima tipico del mese di maggio per l'intero fine settimana, ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i primi giorni del nuovo anno. Sabato 1 gennaio, cielo sereno poco nuvoloso in montagna per l'intera giornata, una spessa coltre di nubi basse sarà invece presente lungo la costa e nelle vallate specie al primo mattino ma senza alcun fenomeno. Temperature in aumento specie in montagna, in lieve diminuzione invece le minime della notte nelle vallate e pianure interne, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. Domenica 2 gennaio condizioni di diffusa stabilità con cielo sereno poco nuvoloso sui colli e sui monti, mentre nubi basse affolleranno i cieli delle aree costiere ma senza il rischio di precipitazione. C'è inoltre da aggiungere la formazione di dense foschie e diffusi banchi di nebbia nelle ore notturne al primo mattino su tutte le pianure vallate interne. Nel corso della giornata il sole comunque farà capolino ovunque, garantendo temperature molto miti con valori fino a 6-8 gradi centigradi al di sopra della norma, venti deboli nord-occidentali e mare calmo. Lunedì e martedì l'alta pressione continuerà ad interessare il nostro territorio sia pur in fase di ritiro, per cui non avremo grossi cambiamenti con condizioni meteo stabili e temperature molto miti. Una possibile svolta invece è attesa tra il 5 e il 6 gennaio, quando l'alta pressione si farà da parte dirigendosi in pieno oceano atlantico con tendenza ad espandersi verso le isole britanniche. In questa posizione favorirà la discesa di correnti fredde dal circolo polare artico alle quali si accompagnerà una depressione che proprio nel giorno della Befana potrebbe interessare la nostra penisola, determinando condizioni di tempo instabile con temperature insensibile diminuzione, questo anche sulla nostra regione chiaramente, ma come sempre occorre riaggiornarsi, pertanto invito i telespettatori a consultare tutte le info che verranno pubblicate sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno e felice 2022. Giuseppe Stabile, meteogiuliacci.it